e così arriva un'altra pole per il nostro Charles che dopo aver realizzato il suo giro perfetto del weekend mette ancora una volta alle spalle le due ostili monoposto di Red Bull quest'anno Leclerc grazie ad una macchina alla sua altezza ha ruotato il manettino sul volante in modalità world champion e se continua di questo passo regalerà delle grandissime soddisfazioni a tutto il popolo ferrarista e motoslow motoslow P1 still P1? yes P1 P2 Verstappen let's go oh nice tap nice tap was Carlos about to go again? so sign lap time 19.4 he couldn't do a prep and target zero on the dash you own positions no I want lap time please lap time for Verstappen Verstappen 18.1 Perez 18.2 Norris 18.7 ok ok good yeah the sun was horrible oh my god the last sector it's like if you drive eyes closed it was so bad understood understood and target zero on the dash please target zero and to the grid to the grid and target zero on the dash please 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 and target zero on the dash please